In questo momento, alle 12 precise, è che volevo registrarmi ma non riesco perché non sono così tecnologico. Avrà il tempo di fare... Ma spero. Lei sapeva di questa testa? Sì, sì. Sarà utile? Già un po', non lo so. Speriamo che non lo useremo mai. Vuol dire che non ci sono disgrazie. Certo. Ci avviciniamo allora a questo tavolo. Posso chiedere a voi il sonato? Mi dispiace, non abbiamo sentito niente. Niente? Neanche la sua amica qui? No, invece amica ha sentito. Lei sì? Sì. No, perché non siete... Sì, siamo ucraini. Lei parla bene l'italiano? Sì, grazie. Grazie a lei. Ecco, lei comunque non ha suonato e la sua amica sì? Sì, invece amica... Il messaggio in che lingua è arrivato? Alla sua amica? In italiano. Ah, italiano. Italiano, Aline Garcia. Grazie, grazie. Aspetti. Le posso chiedere se è suonato il messaggio a lei? L'allert? Non lo so. Ma sul telefono... Sì, ce l'ho. Oh mamma, ma sono tutto sudato. Sì, ma non deve fare la sfilata. Ho capito. Vediamo. No, non mi è arrivato niente a me. Non è arrivato niente. Vediamo. Io non vedo niente. Non c'ho gli occhiali, ma... Non c'è niente. Non c'è niente. Stai attento se c'è un terremoto. È un segnale, è un test della regione Liguria. In caso di emergenza, che avvisa se c'è un terremoto, se c'è un altro problema... È una cosa così da... Cioè, un test che oggi... Che fanno loro. Quanti lo ricevono? Lei non l'ha ricevuto, perciò... Come mai non l'ho ricevuto io? Non so. Questo lo dovranno capirlo loro, perché dovrebbero arrivare a tutti gli utenti che sono in regione Liguria. Dobbiamo dire che viene giù il terremoto, se c'è il terremoto. Noi ce l'accorgiamo. Grazie, grazie, grazie. Allora, da qui... Proviamo a vedere, anche qui nel negozio, un attimino. Scusa, al volo, ti è arrivato l'alert? Sì, sì, è arrivata. È arrivata? Però sì, però... Tu sapevi di essere che doveva arrivare? No, non lo sapevo, mi sono spaventata. Spaventata? Sì. Come hai saputo, come hai capito di cosa si trattava? Ho visto il messaggio, poi. In italiano e in inglese? In italiano, mi sembra. In italiano, sì, sì, in italiano e in inglese dovrebbe arrivare. Grazie. Grazie.